Una gara dal finale dolce per la Tiger che nell'ultimo minuto trova il sorriso con la conclusione di Tindaro Calabrese, una partita dalle poche emozioni che regala la gioia più grande ai tifosi quasi al triplice fischio. La formazione di Bellinvia contro le città di Vittoria è costretta alla rimonta completata nel secondo tempo con gli uomini migliori, individualità su cui contare nei periodi in cui la squadra magari non gira a dovere. Nel primo tempo la partita scivola senza troppi sussulti e monotonia che si interrompe al quarantesimo con l'azione insistita di Casisi in ripartenza che serve con i giri giusti Frittitta che porta il Vittoria in vantaggio, Casisi resiste ai difensori della Tiger e Frittitta completa il buon lavoro con la conclusione precisa che rende vana l'uscita del giovane D'Alessandro. Nel secondo tempo la formazione di casa si scrolla l'apatia e accelera i ritmi di gioco, Zingales trova il fondo sulla sinistra, il cross si ferma sulla parte alta della traversa, Calabrese poi tenta la conclusione da posizione impossibile. Al cinquantunesimo pettinato, sistema le cose dalla bandierina, il difensore si fa trovare ancora pronto e indisturbato, mette la palla alle spalle del portiere del Vittoria. Davide è pettinato ancora in gol e sempre dalla bandierina attento in difesa e puntuale anche in zona gol. Il massimo da chiedere a un difensore è pettinato, risponde. Il Vittoria però ha l'occasione per riprendere il vantaggio con l'uomo migliore, D'Agosta non può sbagliare solo davanti ad Alessandro che si supera, chiudendo lo specchio della porta, partita che rimane sull'1-1. Da punizione calciata sulla tre quarti il Vittoria ancora pericoloso, la palla in aria diventa ingestibile ma per fortuna Brolese si ferma sul fondo. Minuto finale, Lupo ruba palla al centrocampo e serve Tindoro Calabrese sul filo del fuorigioco tenuto attivo dall'ex Diop, il tiro preciso sul secondo palo porta in vantaggio la Tiger per 2-1. Un gol di capitale importanza per la formazione di Bellinvia che di colpo guadagna anche la vetta della classifica. Un bel finale per una partita che era diventata complicata oltre misura, risolta poi nel modo migliore con l'attaccante migliore. Tre punti importanti per un percorso che diventa sempre più interessante per la Tiger. Grazie. Grazie. Grazie.